Stiamo preparando dei casi di una riabilitazione estrema di 8 impianti dentali 4, 5, 6, 7, 8 Gli abatment sui quali poi si va a abitare la struttura Questo è lo scanner che ci consente di prendere l'impronta fisica del paziente e trasferirla sul computer Viene montata su un articolatore che ci permette di simulare i movimenti della bocca Sia di apertura che di lateralità Questa è la struttura stampata con il nostro fresatore professionale Che sostiene il carico masticatorio Stiamo montando le faccette di composito E' importante accoppiare la forma dei denti alla forma del viso Un saluto da Dottor Palma sia dal laboratorio digitale più avanzato dell'est Europa Circa 400.000 euro di macchinari che ci consentono di abbattere il rischio di rottura Del lavoro in assoluto più rischioso e complesso I casi estremi di riabilitazione completa della bocca